Ciao ragazzuoli, eccoci qua, ieri non ho fatto il video, ero un po' provato, la partita era tutto, comunque non c'era molto da aggiungere e in realtà non volevo neanche stare troppo a, come si dice, a ruminare sulla partita del Milan, non c'erano altre notizie particolari e in virtù anche di alcuni commenti che stavo vedendo di gente che inizia già a parlare di disfatta, di addio, sogno scudetto e cose di questo tipo, dico vabbè facciamo così, prendiamoci un giorno per mettere la testa a posto, facciamo un respiro lungo e iniziamo poi dal giorno successivo a ragionare di nuovo sul Milan, così sperando che tutti si siano calmati, i bollenti spiriti in sostanza. Allora, già la testa è alla partita con Salzburgo, ci poco a dire, a tal proposito tweet del Salzburgo dicendo dobbiamo copiare il Torino, buono, copino il Torino, io sono convinto che se anche dovesse copiare il Torino ma il Milan, se scende in campo come il Milan, possono anche copiarlo e di partita non ce n'è comunque perché al di là dei meriti del Torino, che è stato come ripeto un avversario molto organizzato che ha saputo mettersi in campo della maniera intelligente e sfruttare la partita negativa del Milan, il Milan di certo non ha dato il meglio di sé. Per una serie di motivi, soprattutto perché si è lasciato, ha praticamente saltato il centrocampo, il centrocampo non è stato sfruttato perché era in netta superiorità del Torino, anche se si poteva anche riflettere, ma è in futuro, sull'utilizzare il centrocampo a te che abbiamo visto quest'anno quando è stato utilizzato, è andata oggettivamente bene, è stato utile, magari una partita come il Torino ma questa è una riflessione a posteriori che trova il tempo che trova, ovviamente a posteriori con i secoli ma è molto facile farla, si potrebbe pensare che magari con un centrocampo a te un pochino più denso forse la gestione della palla sarebbe stata un pochino più efficace, non ci siamo stati tutti quei lanci lunghi ma ci ho detto, comunque il Salzburg è già pronto per la partita, noi ci presentiamo con un Pioli che ha rinnovato e questo mi dà molta gioia, il contratto, penso che sia una cosa giusta, una cosa meritocratica, Pioli se lo strameritava il rinnovo fino al 2025 lo porterà, laddove deve essere completato il ciclo appunto degli anni previsti dal contratto ad essere il quarto allenatore per longevità sulla panchiera in Milan adesso stiamo zitti, non portiamoci scarognare soli, ma sarebbero 6 le stagioni dietro solo a Ancelotti che ne ha fatte 8, Nislida un ne ha fatte 8, Nereo Rocco ne ha fatte 13 ultime valutazioni sono quelle relative invece alla probabile formazione, il Milan dovrebbe schierare Benacer si procede di nuovo, quanto pare, con il centrocampo a due a mio giudizio magari potrebbe essere sensato provare con un trequartista diciamo un po' più contenitivo, non mi dispiacerebbe per esempio vedere Iconic ma sono migliori valutazioni quello che è sicuro è che dovrebbe giocare Benacer, dovrebbe giocare di nuovo Giroud e ci si aspetta molto dall'intesa Giroud-Leao in difesa ci sarà Kier, quindi c'è questo elemento in più che dobbiamo considerare dopodiché attesto sarà di nuovo alla partita successiva di campionato tutto quanto molto ravvicinato, quindi un tour de force che continua in vista di questo mondiale assurdo periodo autunnale e invernale ma così è rimaniamo comunque concentrati, mi raccomando spero di vedere se ci sono commenti più propositivi nessuna sentenza perché adesso non è il momento di dare giudizi definitivi su quello che sarà il futuro in campionato, in Champions siamo perfettamente in corsa su entrambi i fronti quindi diamoci piano, chiaramente però domani una prima sentenza lì sì ci sarà oggettiva cioè se il Milan agli ottavi oppure no Milan dal mio punto di vista ha tutte le chance per andare tranquillamente agli ottavi certo è che non deve fare una partita come quella che ha fatto col Torino perché sennò inizia a essere un po' complicato ma io credo che l'abbiamo sempre visto anche in seguito a partite magari non giocate bilantemente nel Milan poi il Milan ha sempre fornito un riscatto io vi saluto, alla prossima, ciao ciao ah, e torno in Italia oggi quindi ricomincerò con la prassi solita ciao 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 ciao